Ciao a tutti ragazzi e ragazzi Sono Sterbio e benvenuti in questo nuovo video Oggi apriremo La collezione speciale Squadra istinto Che essenzialmente è la squadra Gialla con simbolo Articuno Leggiamo cosa contiene anche se si può vedere Da se Bell artwork, c'è molte cose in rilievo Infatti come questo Cose qua sono in rilievo Questo qua è il capo squadra E all'interno è presente Una carta promozionale Olografica a figura intera Di Spark che è il nome Del capo squadra La spilla dell'ax Con l'emblema Della squadra di istinto Che è Zapdos Sei bustini dell'espansione E la carta del codice Del tin Apriamo subito io direi Questo meraviglioso Box Stando attento A non spacca tutto Perché è un set Molto bello Aiuto Non riesco Aiuto Sodrio Scavesse tutto Non si Non si Le hanno proprio Incollato Con Con tutto quello Che potevano incollarlo Insomma Niente Go Spacca Tutto Spacca Tutto Frantum Tutto il frantumabile Aiuto Ok Ho fatto Ho fatto Un casino Apriamo E tiriamo fuori Il contenuto Dentro ogni Set Di Pokémon Go Tra l'altro si vedono qua I rilievi E' presente Un foglio Come questo qua Dove all'interno Sono presenti dei codici Da Riscattare Nel gioco Apriamo Op 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 E Op Via Questa E' la Spilla Bellissima Molto Molto Bella Wow Così Col simbolo In rilievo Come potete vedere Fondo Argentato E' il solito Sfondo Il solito Retro Molto Molto Bella Top Io Suppongo Sono del team Istinto Proprio per questo Ho preso Questa Team Scrivetemi Nei commenti Voi Di che squadra Di che team Di che squadra Fate parte Insomma E Oh Ah qua c'è Un'altra Copertura Dove E' portetta La carta Spark Promozionale Promozionale Scusate Da utilizzare Nel gioco Ma Da tenere Essenzialmente Così Come Grafica Se io la tengo così Perché Non ho A portata di mano Nessun Cosa Protettiva Però Questo sistema Dopo Qua abbiamo Le nostre Sei Qua metto La spilla Le nostre sei Bostine Da aprire Aiuto Via E cominciamo Subito Con la prima Nello scorso video Abbiamo aperto La La ball La team Ultra ball Di pokemon go E se ve lo siete perso Vi consiglio Di andarlo A Recuperare Tarquill Larvitar Natu Ambipom Slowpoke Wartortle Slowbro Lunaton Energia Pikachu E infine Zabdos Molto bello Adesso vi abbasso La Visuale Così Riuscite a vedere meglio Nello scorso video Mi sono dimenticato Di Inserire Il pezzo Dove mostravo Andavo a vedere Se avevo trotto Un ditto Aiuto Però Comunque è stato di fatto Che non avevo trotto Nessun ditto Purtroppo Onyx Charmander Biduff Windpod Pidove Ivysaur Wartortle Entrambi Caramella rara Energia Articuno E Golisopod 1 2 3 4 Prossimo C'è anche un po' di SMR 3 1 1 2 Onyx Eevee Numel Raticate Tarquil Eeveesaur Amphesant Kamerupt Energia Numel E Modulo Esca Gold Beeello Questo Questo qua non ce l'avevo E ragazzi Ho notato Che Questo Bellissimo Numel Che io Atterrò così Ha il simbolino Del ditto Qua Adesso non si vede bene Quindi Significa Questo si può Alzare Ed è una pellicola E sotto Troviamo il ditto Ciao Io Ti risigillo Perché A me piace Tenere le carte così Te le senti Sono anche più spesse Come carta Cioè quindi È una carta più spessa Rispetto a una carta normale Qua le mettiamo Da parte Ok Prossima Uno Due Tre Cogge Uno Due Squirtle Vivarell Rattata Numel Raticate Ariados Blanche Stivix Codice Astro Spinarak E Blastoise Molto bello Molto bello Via Ultime Ultime due Aiuto Non riesco ad aprire Ok Fatto Via Uno Due Tre Uno Uno Due Larvidar Natu Ambipom Slopock Bibarel Stilix Candela Charmeleon Energie Meltan E Infine Col Keldur V Bello Bellai Aiuto Mi sono Soffocato Ultima Bustina Questa è stata La più facile Da aprire Il codice Uno Due Tre Uno Uno Due Pikachu Spinarak Rattata Dio dei Pokemon Charmander Modulo Esca Gold Areados Incubatrice Uova Energia Pikachu E infine Natu Pikachu Con Pro Doppia Grafica Notate Questo Pikachu Ha il barretto Di Pokemon Go Mentre Questo Cammina A fianco All'allenatore Niente Allora Oggi Abbiamo Trovato Poco Abbiamo Trovato Poco Ma Buono Come Sempre Oddio Sempre Un parolone Però Belle Carte Belle Carte Ok Via È stato Fatto Che oggi Abbiamo Trovato Un bel Modulo Esca Gold Un Col Keldur V E un bel Ditto Sottoforma Di Numel Che sta dormendo Tra l'altro Quindi Non facciamo casino E Questa qua È La spilla Bellissima La aggiungo Alla mia collezione Di spilla Di pokemon E Io Con questa Vi saluto E ci vediamo Nel prossimo Video Vi ricordo Di iscrivervi Al canale Di attivare La campanellina E di lasciare Un bel like Se vi è piaciuto Il video E quindi Alla prossima Ciao Ciao